Una recente dimostrazione pratica delle nuove trattrici Fiat a Dogliani alla presenza del Presidente della Repubblica. Ecco la trattrice a Cingoli, la topolino dell'agricoltura appositamente costruita per i terreni difficili. Si arrampica dappertutto e passa sicura anche tra i filari delle nostre vigne superando pendenze superiori al 50%. Questa è la sorella, trattrice a ruote adatta per qualsiasi lavoro nella fattoria, dalla aratura propriamente detta ai lavori sussidiari come erpicatura, semina, falciatura, trasporti. Vedetela al lavoro con un aratro portato sollevabile dallo stesso guidatore alla fine di ogni solco. E da questi solchi, così meccanicamente tracciati, la messe germoglierà per ogni desco italiano.